Infine il sesto classificato Antonio Feliz da Costa è di tutto un altro umore perché è molto contento nel senso che utilizzando l'Auguri con la configurazione dello scorso anno si trova molto bene ed è più avanti di quello che lui originalmente pensava per quest'anno. Sentiamo cosa ci ha detto il pilota portoghese. Antonio Feliz da Costa, come mi racconti questo sesto posto dove hai dovuto lottare parecchio? Sì, un po' sì, ma sono molto più contento con il sesto posto qui che è a Malasia. Visto che lì eravamo per finire un podio abbiamo avuto un problema e siamo stati un po' messi indietro e finito il sesto. Qui invece abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, la macchina era questo, il sesto era il massimo. Vabbè abbiamo fatto un buon lavoro, tutta la squadra non ha fatto errori questo weekend, io non ho fatto errori e sono contento con il P6 di oggi, bel punti ma vabbè cerchiamo di migliorare un po' e cercare di lottare un po' di più con quelli che hanno i motori nuovi. Tu a inizio di stagione mi avevi detto che pensavi di essere più o meno sul posto a metà schieramento, sul decimo, ottavo, decimo posto. Sei generalmente un po' più su, sei sorpreso di questa cosa? Un po' sì, siamo un po' più avanti di quello che pensavo. Sono anche contento di essere regolarmente il più forte di quelli che hanno la macchina dell'anno scorso. Che è il team Andretti, diciamolo. Tra il mio compagno di squadra, col team Andretti, Frinz e Simona e questo è anche un piccolo gol per questa stagione, allora va bene così. Ciao Antonio, grazie, buon Natale e auguri. Buon Natale, grazie. Grazie.